che è successo ok oddio io modeste vedo guarda occhio al cararmato daniel eccolo come fa cascare guarda madonna te fa casca a dovello no aspetta meglio non cambio perchè se no ah sta laggiù con l'insuggenci oh ci ha provato si boh quello col cararmato oddio che fino ha fatto ah sta lassù come ha fatto ma poi dove lo trovano il cararmato boh de poco col culo all'aria eccolo come vedo io che guardo ok quanto state ma mi dovete fare entrare con loro mi dovete fare entrare con loro perchè mi sa che so di meno mi sa dici 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 spero di nuovo matteo cacca 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 oh te dove stai sopra? no mi sa che te stai sotto dove stai? io mo sto sopra eh allora stavo contro cacchietto c'è cerca di togliete subito così almeno non devi ma che stanno con la macchina gialla sopra madonna che davvero pensavo fossi te io vado a cercare il cacca caccaro armaro guardalo no qualcuno mi può spiegare come ha fatto questo qua sta lì qua su daniel mi è spawnato un veicolo qua sopra com'è il veicolo? la sopra guardalo no mi sa che questo è modder guardalo no questo è modder daniel si deve trasportare anywhere ma è contro sta contro sta contro di me e con te no ma se questo è modder mo si deve trasportare qua sopra dove stavo? dove che aspita sta? bravo si è suicidato non lo vedo questo è modder dai rialzati no vabbè che ci stanno gli modder qua ah io non ti posso ah Andrea calcola io sto sulla piattaforma non mi ammazzà ok quale piattaforma? io non ti sparo ok no tranquillo eh sono salito su spai che ti metto pure leg light aspetta eh che non ecco te sei rimasto solo te calcola cacchio non mi spara a me spara a tizio va bene però se trovo il carro armare te sai dove sta il carro armare? no calcola forse armare in montagna oddio quella è una vittima facile no 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 io no io no io no io no sposta te ok e vaffan eh non te volevo sparare perché c'è stavi cioè no non volevo sparare lui perché c'è stavi te vicino però guarda facci caso se stiamo contro fila tutto liscio sarà un caso bah mistero che entri sempre quando si perde beh poi stiamo stiamo sempre contro quando tutto quando tutto fila liscio guarda possiamo fare l'ultimo l'ultimissimo lts giusto perché non te sei non sei rimasto collegato rifamo la stessa partita va bene mettiamo rigioco l'ultimo vremmo lts vremmo vremmo